4 persone denunciate e 180.000 prodotti cosmetici con marchi contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute sequestrati. È il bilancio di un'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Pistoia che ha interessato anche le province di Varese e Firenze. I prodotti in gran parte saponi, bagnoschiuma e shampoo sono risultati anche privi della documentazione informativa prevista dalla normativa europea e nazionale per ciascun cosmetico prima che venga immesso in commercio al fine di certificarne la sicurezza per la salute umana. Le indagini delle fiamme gialle e pistoiesi che si sono avvalse anche della collaborazione di medici e tecnici dell'ASL per l'effettuazione di analisi di laboratorio hanno interessato alcune società operanti nelle province di Pistoia, Varese e Firenze. È stato anche accertato che una società con sede a Pistoia, riproducendo illecitamente le confezioni, gli imballaggi e i contenitori dei prodotti originali, era in procinto di mettere nel mercato nazionale altri 80.000 prodotti cosmetici contraffatti.